E' stato ritenuto non illogico e non irrazionale il provvedimento in ordine all'esistenza di possibili infiltrazioni di associazioni mafiose all'interno delle cooperative che in provincia di Vibo Valencia avevano finora gestito il flusso dei migranti giunti nel porto di Vibo Marina. Se già il provvedimento del prefetto Guido Longo, caso unico in Italia, assunto per la prima volta di commissariare delle cooperative aveva fatto prima scalpore e poi scuola, ora il nuovo intervento del TAR Calabria non solo ne conferma la validità quanto soprattutto ne ribadisce il senso. Come si ricorderà, in seguito ad un'interdittiva, il prefetto di Vibo Valencia aveva assunto la decisione di commissariare, così come avviene per i comuni, due cooperative, la Monteleone Servizi e la Monteleone 3.0 Protezione Civile, le due cooperative che fino a qualche mese fa si occupavano della gestione dei principali centri di accoglienza di migranti della provincia vibonese, esattamente a Briatico. I legali delle due cooperative avevano chiesto l'annullamento, previa e sospensiva dell'efficacia sia dell'interdittiva antimafia della prefettura che di tutti gli atti conseguenziali e connessi, ma la sezione prima del TAR di Catanzaro ha respinto il ricorso cautelare presentato, di fatto confermando i sospetti dell'ufficio territoriale del governo, spiegando che la decisione di respingere il ricorso deriva da vari elementi che emergono nell'informativa, ovvero numeri di rapporti con soggetti gravati da indizi di condizionamento mafioso e rapporti tra soci ed amministratori delle cooperative con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Insomma, una sentenza che si è risolta in un boomerang per le due cooperative che rimangono dunque sotto il regime commissariale, con l'aggravante di un'ulteriore conferma dei sospetti che avevano portato a questa decisione, che tanto scalpore già aveva fatto.